Non so se questo video lo potrò chiamare come la serie di video che sto facendo su TikTok e su Instagram Siti che dovrebbero essere illegali parte qualcosa Ma nel frattempo voglio raccogliere un po' di siti qui su YouTube Anche perché dal sondaggio su Instagram è il risultato che volevate un video esteso su come si utilizzano determinati siti Facciamo questo episodio, vediamo come va Fatemi sapere se vi è piaciuto, quindi mettete un like, un commento e iscrivetevi al canale Se vi piace questo tipo di argomenti, io sono Antonio, in questo canale tratto tecnologia, investimenti in criptovalute, monetizzazione, eccetera, eccetera, eccetera Dunque, se volete supportare il canale vi lascio tutti quanti i link in descrizione Direi di passare subito al sodo e di andare a vedere qualche sito e siti ovviamente particolari Il fatto che siano illegali è per dire che sono siti utili e comunque che non si trovano così facilmente Questo è frutto di ricerche e soprattutto della mia curiosità anche perché sono un po' un geek, un po' nerd, sì effettivamente è così Ma non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito, andiamo sullo schermo Come vi dicevo, video insolito, io direi di partire subito da uno dei siti preferiti Andiamo su questo sito, edx.org E qua possiamo trovare oltre 3.000 corsi 420.000 persone stanno imparando su questo sito E molti dei corsi, per l'appunto, sono gratuiti E ci sono dei corsi che sono appunto promossi e fatti da università top come Harvard University, il MIT, Berkeley Insomma, niente male, davvero niente male Ad esempio facciamo una ricerca, possiamo cercare tutti quanti i corsi, quindi su Esplora, tranquillamente Quindi qua abbiamo i corsi, ad esempio Berkeley, la scienza della felicità, Remote Work Revolution, Google Cloud Computing Insomma, niente niente male, anche i corsi di IBM Andiamo al corso, ad esempio qua basta registrarsi e creare un account per poter accedere a questo tipo di corso Andiamo a fare una ricerca, ad esempio mettiamo che voglio imparare qualcosa sulla cyber security Ecco qua, questo qua dell'IBM, magari cerchiamo qualcuno che sia già iniziato Andiamo a selezionarci disponibili adesso Creiamo un account gratuitamente Ed ecco qua che abbiamo il nostro corso e possiamo iniziarlo Qua ci sono tutte quante le informazioni e anche tutti quanti i week, quindi le settimane Possiamo vedere che il corso inizia proprio oggi Mettiamo Start Ed ecco qui che abbiamo il nostro corso totalmente gratuito Abbiamo anche la possibilità poi di scaricare il file e di vederci tutte quante le lezioni In più, appunto, ci sono anche i questionari E mi raccomando, non lasciatevi spaventare dal fatto che sia in inglese Proprio perché, appunto, l'inglese oggi è una lingua universale E se non la conoscete dovete imparare Quindi qua avrete poi tutta quanta la vostra schermata Ecco che, insomma, questo è uno dei siti che a mio modo di vedere è molto molto interessante Ovviamente ci sono molti corsi liberi Alcuni poi bisognerà effettuare un upgrade Ma per iniziare è sicuramente un ottimo modo Voglio farvi vedere un altro sito molto interessante Questa volta è, diciamo così, per trovare le categorie di Netflix Per poterlo fare basta andare su netflixcodes.com Ecco qua Prima di presentarvi il sito andiamo a vedere un attimo su Netflix Eccoci su Netflix Se clicchiamo su Film Abbiamo la possibilità di vedere una cosa Ovvero il genere Il genere è rappresentato da questo codice qua sopra E possiamo selezionare magari corti Corti il codice è questo Ora, per andare a trovare delle categorie che non sono presenti qua sopra Cosa facciamo? Ad esempio, vogliamo vedere dei film anime Horror Ok, copiamo questo link Questo codice Andiamo su Netflix E lo aggiungiamo qua Ecco qua che ci farà vedere una categoria Che solitamente non è presente all'interno dei film e dei generi di Netflix Visto che ci troviamo in tema di film Vediamo un altro sito Ovviamente, vabbè, su questo ragazzi è semplicissimo Copiate e vi vedete tutto quello che solitamente non riuscite a trovare Andiamo su quest'altro Questo sito Ad esempio possiamo scrivere una frase E ti trova il film che dice proprio quella frase Facciamo un esempio I love you Ti amo Ma è fantastico, una roba assurda Cripto Possiamo tirare i dadi E possiamo scaricare anche il video di riferimento Veramente un sito utilissimo soprattutto per chi fa dei video Vi faccio vedere un altro Cambiamo un po' tema Andiamo sui viaggi E il sito è MakeMyDriveFun.com Questo sito ha un po' di problemi È vero, è un po' buggato Però resta comunque molto interessante Come funziona? Andiamo a scegliere da dove partiamo E dove vogliamo arrivare Ad esempio Roma Milano Ed ecco qua Che sulla mappa Ci va a consigliare Dei posti Che si possono visitare E che sono un po' insoliti E quindi dei bei posti in cui fermarsi Per fare un lungo viaggio Magari stai pianificando un viaggio con degli amici Con la tua ragazza eccetera E nel tragitto volete fermarvi Ed ecco qua che ci dà un bel po' di idee Con dei posti insoliti da visitare Tipo questo Orviet Underground Oppure questo Riferito anche per Paolo Pasolini E ci sono appunto dei posti Che solitamente non sono visitati Come vi dicevo è un po' buggato Però a mio modo di vedere Molto utile Quando sono in viaggio Spesso un giro Qua sopra me lo faccio Altro sito Se non volete spendere un sacco di soldi Su pacchetti Office E quindi magari per avere Word, Excel Oppure altre alternative Andiamo su Download Ed ecco qua che in base poi insomma al nostro PC Possiamo scaricarlo Sia per Mac che anche per Windows Ma anche Linux Questo se state cercando un'alternativa appunto a Word Può essere molto comodo E vi evita di pagare un bel po' di soldi Per altre soluzioni Se siete invece degli studenti Che cosa facciamo? Avete diritto gratuitamente a Word Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams Basta andare su Google Cerchiamo Microsoft Office 365 Studenti Ecco qua Office 365 Education Come funziona? Gli studenti e docenti degli istituti di Dune e Doni Possono registrarsi per utilizzare gratuitamente Office 365 Che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams Oltre a strumenti aggiuntivi per la classe Utilizza il tuo indirizzo email scolastico e inizia subito Quindi qua iniziate con la mail della vostra scuola Se è accreditata lo scaricate gratuitamente e lo potete utilizzare Quindi grande soluzione Oppure se non siete Doni Potete vedere altre opzioni che ci permette Insomma Microsoft Sicuramente anche questo Super super utile Tante altre volte invece siamo Diciamo così impazziti per poter trasferire dei file Esistono diversi siti che si utilizzano Oggi ve ne faccio vedere tre che secondo me sono la svolta E l'ultimo è davvero pazzesco Infatti mi ha permesso di trasferire circa 1000 file Con più di 200 giga Senza alcun tipo di problema Il primo è Filepizza Ovviamente non vi sto dicendo di passare dei file tramite questo sito Magari riservati Però se avete da trasferire dei file velocemente Questo ne è uno E funziona egregiamente Basta selezionare i file qua sotto e mandarli L'altro invece è Dropshare Eccolo qua Comodissimo Anche questo E l'ultimo che secondo me è il più figo È justbemit.com E qua è possibile come vi dicevo Trasferire file anche superiore ai 200 giga Una roba veramente incredibile Passiamo su un sito divertente E mi chiedo se vi siete mai chiesti Cosa succedeva nel mondo quando siamo stati concepiti Probabilmente non siamo arrivati tramite Amazon Perché stavo ricercando un apribottiglie del genere Non lo so Ma evitiamo E come vi sto dicendo Non siamo stati ordinati tramite Amazon E quando i nostri genitori si stavano divertendo Nel mondo accadevano delle cose Se andiamo su When I want to come Eccoci qua sul sito Andiamo a inserire la nostra data di nascita Luglio 29 2005 E vediamo quando sono stato concepito Possiamo vedere diversi dati E dovrei essere stato concepito Tra il primo e il 9 novembre 2004 La canzone che ascoltavano i miei genitori Era My Boo di Usher Il film della settimana Del mio concepimento È The Incredible Che non conosco Il mio compleanno è questo E condivido il mio compleanno Con Benito Mussolini E gli altri non li conosco sinceramente Quindi provate anche voi a fare Questo gioco E nei commenti Mi scrivete Cosa è venuto fuori E se vi rappresentano Insomma i film e la musica Ora vi faccio vedere un sito Dove si possono vedere in italiano E gratuitamente Dei film serie tv Come se fosse Netflix Commedia, intrattenimento, animazione Bambini eccetera eccetera Il sito è Pluto.tv È vero ci sono delle pubblicità Ma è possibile utilizzare la Dblock E allora qua abbiamo sia canali tv E sia on demand Quindi qua abbiamo i più visti South Park, Jefferson Eccetera eccetera E poi Guardate qua che roba Su on demand Ci abbiamo una serie di film E ci abbiamo tutta quanta Diciamo così le serie E le categorie che possiamo ricercare Funzionano tutti Come vi dicevo Sono in italiano E insomma Se volete ringraziarmi È bene che Lasciate un like al video E vi iscrivete al canale E soprattutto Diciamo così Condividete questo video Con i vostri amici E ve ne sarei immensamente grato Vi faccio vedere L'ultimo sito Veramente l'ultimo Perché poi Se raggiungiamo 100 like a questo video Penso di farne La seconda parte E ve ne faccio vedere altri L'ultimo è Nightcafè.studio Ed è un generatore Di intelligenza artificiale Quindi Utilizza a generare immagini Partendo dall'intelligenza artificiale Come funziona? Utilizziamo Lo style transfer Ve ne faccio vedere uno E possiamo caricare Un'immagine Prendiamo Ad esempio La foto del mio cane E scegliamo uno stile Ad esempio Questo O anche questo Vediamo un po' che succede L'intelligenza artificiale Sta lavorando Non so se conoscete L'intelligenza artificiale Fatemelo sapere Sempre nei commenti E in questo momento L'intelligenza artificiale Sta lavorando Per combinare le parti La creazione richiede Qualche minuto Aspettate un attimo Dopo qualche minuto Vediamo la creazione È davvero Fantastico Torniamo dal vivo Spero che con questo video Abbiate potuto raccogliere Un po' di siti utili Segnalatemeli Qua sotto nei commenti Se avete qualche sito Da farmi analizzare Qualche sito Di cui siete curiosi Cosicché Nelle prossime Episodi Andiamo a capire insieme Andiamo a vedere insieme In che modo utilizzarli Ancora una volta Se vi piace questo tipo di video Vi invito ad iscrivervi al canale Di mettere mi piace Di commentare Ci vediamo Alla prossimo episodio Io vi saluto Alla prossimo episodio